se partiamo un po' più distante è una rovescia parti in retro ho i recuperi, i finale bici sono tutti? sembra di sì allora, pronti e via? 5, 4 5, scusate 5, 4, 3 via 8, 10, 20, 21, 21, 21 sei l'anima sei l'anima ahhh Grazie. Stefano, davanti! Stefano, dopo due minuti di gara, conduce il CULAT, seguito da IRA, scappareggia, basaglia, canali, massaggia, evangelio e braccia che non c'è. Grazie. 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 Che farò? Grazie. Allora, dopo quattro minuti e mezzo, con tutto il CULAT, si fa anche il giro record in 25, 773. Consegue i lini a 7 secondi, basaglia 15, cazzareggia 18, canali a 23, con massaggio di carne, evangelio, doppiato. Grazie. 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 Da 23 canali, massaggio a Riccardo e Vangelo a un giro. Manca un minuto e 15 secondi. Manca un minuto e 15 secondi. Manca un minuto e 15 secondi. Manca un minuto e 15 secondi.